Ecco più vicini, più vicini. A nome di Alfa, un uomo di giugno delle figlie di Chiara e Anna, vi esprimo alcune impressioni in suo ricordo. L'affetto e amicizia dimostrata da molti espositori in questi mesi mi hanno dato la forza di continuare con Pisana, manifestazione pensata e ideata da Giuseppe nel lontano di 1997. Ho avuto la fortuna di trovare dei nuovi collaboratori, e più precisamente Giovanni, Matteo e Alessandro, sensibili e professionali, accompagnati da un nuovo staff ben preparato con il quale è stato possibile riprendere il cammino. Sicuramente Pisana subirà il cambiamento, sono superiore persone topiche con nuovi idee e nuovi progetti, che vogliono però mantenere fino conduttore della manifestazione indirizzata per essere in tutti i suoi aspetti. Un grazie particolare va ad Antonio, a Fausto, a Renzo, a Lidia e a Federica e a tutti i vecchi collaboratori che ne sono stati molto vicini. Grazie mille a tutti voi. Grazie mille a tutti.